Ciao a tutti, sono Daniele Capozucca di Dine Animation e questa sera abbiamo svolto la serata qui in Piazza Colombo, Sanremo con animazione, balli di gruppo e balli di vario genere. È stata una bellissima serata con la nostra ballerina di Macumba Fitness, Elisa Rosano. Abbiamo tantissimi appuntamenti estivi per questa estate 2017. Il nostro tour si chiama Vive Romantici Tour, abbiamo preso spunto dal nostro gruppo di riferimento per quanto riguarda le canzoni romantiche che sono in Baudà e il titolo di una canzone si chiama Vive Romantici, la quale è la canzone di chiusura che utilizziamo in ogni serata nostra per concludere la serata. Abbiamo serate di vario genere, come dicevo, karaoke, balli di gruppo, animazione cabaret e DJ set. Si svolgono in tutta la riviera e soprattutto Sanremo e qui in Piazza Colombo avremo sei date, comprese le date del 2 e del 4 agosto di Miss in Piazza. Le prime tre concorrenti che si classificano nelle prime tre posizioni avranno, accederanno di diritto al concorso Una ragazza per il cinema che si svolgerà a Taormina. Quindi è una bellissima esperienza per tutti coloro che hanno voglia di divertirsi e di partecipare a questo bellissimo concorso. Per iscriversi le ragazze possono trovarsi qui in Piazza Colombo il pomeriggio del 2 di agosto in modo tale da completare l'iscrizione. Le ragazze potranno iscriversi entro la facetà di 26 anni. Ecco, avevo pronunciato che sarebbe arrivato ed è arrivato il nostro ciccio, Luca Cavalcante, nostro presentatore, cabarettista, imitatore, uno showman in generale. Ve lo presento e cosa facciamo? Facciamo sentire un pezzo del tuo repertorio? Come vuoi, per me è differente. Così, a brucia pelo. Facci, Lino Banfi. Camicchioni, madonna e benedetta a me, madonna e benedetta, è un casino qua, guarda che bello, Sanremo, perché Sanremo e Sanremo, madonna e benedetta, è un casino, è un casino. Bellissimo questa serata. Bellissima. Uno, cambio. I balli di gruppo in generale sono i miei preferiti, anche perché tante baciata ne sto ballando davvero poco. Ah, molto bella, sono proprio belle serate, poi per chi è imbarcante e ha voglia di divertirsi, sono belle iniziative del comune, per noi. Grazie. Saluta. No. Ok.